Residenza Maria Pittaluga risponde alle esigenze di persone sole che non si accontentano della solita residenza auspizio. Residenza Maria Pittaluga, siamo a Genova, in via Ricci numero 3 barra 3, una dimora per anziani dal servizio elegante e attento. Residenza Maria Pittaluga è una comunità alloggio nata per rispondere ad esigenze di soggiorno elevate. Centrale, comoda a tutti i mezzi pubblici e vicinissima alla stazione Brignole risponde alle esigenze di persone sole che non si accontentano della solita residenza auspizio. Arredata con mobili antichi e di gusto, dispone di camere singole e doppie con possibilità di telefono, televisore in camera. Offre spazi climatizzati e operatori dedicati al benessere e al servizio del nostro ospite. La cucina è interna, con menu che offrono varie possibilità di scelta giornaliera. Offre inoltre vari servizi su richiesta, come il parrucchiere, il podologo, il fisioterapista, il disbrigo di pratiche amministrative. Residenza Maria Pittaluga ti attende con un clima familiare e accogliente al seguente numero. Telefono 010 56 21 78 Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS